Un piccolo minoglio che aveva chiesto a mamma, posso stare un po' a giocare? Sì ma non incontrare i coccodilli cattivi, non li incontrerò, sai che io non li incontrerò? Ah, va bene, fai uscire, e così stava ostendo. Era una bella giornata, c'erano sempre i soli, non avevano chiesto una cosa, poi, e si perse, e si perse, ma perché mi sono perso proprio? Ma perché? Perché? Io non mi volevo. Quante persone ci sono? E tante, sempre, tante. Quante personalità ce l'ho a stare con i suoi? Vai continua. Ma scusate, non è sempre quello? Eh, è sempre. E mentre di là, stava, aveva sete, il minollo, che era sempre una cosa che non aveva detto, ma poi stava bevendo. E mentre di là, c'erano dei coccodilli cattivi, che il minollo stava prendendo i fiorellini. E mentre di là, era spaventato, perché stava andando via, e stava correndo. Ma perché? Ma sono fatto così? Dimmi nolli, sempre, vai! E poi, sai, ma perché sei rotto qua e qua? E l'hai rotto tu? No. Allora, scusa papà, non ce l'avevo rotto te. Non l'ho rotto. E poi... Stava... Che succede poi? E poi stava scappando, perché i coccodilli cattivi volevano mangiare questo, il minollo, ma aveva le gambe lunghe. E poteva... E fammi vedere, le gambe lunghe. E poteva camminare, perché stava camminando, in una cosa che aveva detto qualcuno. E incontrò un camera da lonti. Una camera da lonti. Tu che ti fai qua? Nella casa dei minolli, dai! Sempre il fatto così, i minolli. Con le gambe lunghe. E l'altro è corte. Ma dai! Che vuoi fare? Che si piglia a fare quelle cose? Che si piglia? E... E... Ma a un certo punto, stava... Aveva di nuovo sede. E stava andando in un altro laghetto. E incontrò un minollo. Ma... Tu sei grande, minollo. Ah! E stava... Ma ti vedo. Come? E... Le dico, lo dite sempre quelle cose. Io capisco quelle cose sempre. Lo sai? Che sempre quella cosa. Ma non mi sembra bella. Bella. Ma che dici? E butta. Ma che dici sempre, dai. Ma sempre quella cosa. Tu lo sai. Sempre quella cosa, eh. Vabbè, quanto dura. Tu non era quella cosa. Quanto dura sto monologo? E incontrò. Senti... 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 Era tiscine. Mamma, mamma, dove sei? Senti... E stava arrivando dentro casa. E stava scappando. Ma stava bevendo. E dentro casa... Era sempre contento. Juhu! Era contento. Sempre quella cosa. Non era... Vero. Sempre, sempre, dai. E' fine della storia. Fine della storia? Ok.